1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Lago di Gic, no? Com'è? 2.100 metri nord dell'Etiopia, regione degli Amara, franco ai remi su un barcone di metallo che pesa circa una tonnellata, con due remi rudimentali senza fermi, durissimi, controcorrente e controvento, cerchiamo di dirigerci, dove andiamo franco? Questa è la spiaggetta, a quella spiaggetta là, bene, dopo ci alleneremo, magari una spiaggetta infestata dai coccodrilli, perché il tipo ha detto che comunque i coccodrilli ce n'è, come ha detto più, out, che ci sono ma out, fuori nell'area. Grazie. 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 Grazie.